Salve a tutti le equite e bentornati qui su Pokémon Sian! Ragazzi, nella scorsa parte ci eravamo lasciati qui a Siena Tama, la città immessa nella tempesta di sabbia Infatti guardate, siamo sommessi da questa tempesta di sabbia che non accenna a Terminale, insomma Dopo che appunto avevamo, ragazzi, attraversato l'oceano e anche il deserto di Siena Nella scorsa parte, ragazzi, inoltre vi avevo lasciato un bel quesito Ovvero, ragazzi, dovevo tenere appunto in squadra Shalfin oppure Stegamp Mi avete dato veramente un sacco di consigli, ragazzi, veramente vi ringrazio come sempre dei numerosi consigli Veramente tantissimi nella scorsa parte me ne avete dati E diciamo che i due Pokémon si sono appunto spartiti in maniera abbastanza equa le votazioni Perché, ragazzi, devo dire che i vostri consigli sono stati abbastanza equilibrati Però ho notato una leggera maggioranza per quanto riguarda Stegamp Quindi, ragazzi, allora, ho allenato prima di tutto tutto il 45, questo ve lo dico Guardate qua, tutto il 45 è bello allenati Veramente siamo pronti per la palestra e per magari il Team Rocket E, ragazzi, mi avete anche fatto notare che magari Shalfin, il Pokémon squaletto di tipo acquacciaio Ha delle statistiche abbastanza basse Mentre Stegamp mi avete detto che l'evoluzione è una bestia Veramente una bestia E poi è anche molto carina Quindi, ragazzi, visto che io comunque di tipo acqua ho già comunque un validissimo Pinecab Che ha idropompa e surf Quindi, ragazzi, per il tipo acqua siamo abbastanza a posto Per il momento, per il momento Siamo ben chiari Per il momento Pensavo appunto di inserire in squadra Stegamp Almeno possiamo anche sfruttare il suo tipo terra E poi, ragazzi, gli ho fatto imparare Aquatail Cioè, acquaggetto Questo perché? Perché dato che dovevo allenarmi questo Pokémon E in questa zona ci sono solamente Pokémon di tipo terra Mi serviva una mossa super efficace E quindi, visto che avevo Aquatail Ho detto, perché non fargliela imparare? Visto che è capace di apprenderla E quindi, ragazzi, visto che è anche un buon attacco fisico Ho deciso di fargli imparare Aquaggetto Che è anche una mossa che attacca sempre per prima Quindi, ragazzi Quindi Siamo qui a Senatown E quindi Entriamo in palestra La palestra La sesta palestra E questa palestra è maggior che sia di tipo terra Siamo immersi in appunto ground type Manco Manco a dirlo Ok, quindi, ragazzi In questa palestra sono molto favoriti Pokémon di tipo erba Cioè Pinecrab E anche quelli di tipo acqua Cioè Pinecrab E anche, comunque, sia Stegamp Che è anche una mossa di tipo acqua Cioè, acquaggetto Comunque, ragazzi Pinecrab in questa palestra Veramente fa di nuovo stracelli Un po' come nella scorsa Ok Senshu Mamma mia Ok, ragazzi Finalmente mi sono allenato Grazie a Dio ce l'ho fatta Mamma mia Ragazzi Guardate che questo è forte Io Non so ancora quando si evolva Intanto si deve evolvere anche Dreadro Come avete detto Che si evolve intorno al 50 Speriamo di riuscire a vedere la sua Evoluzione in tempo Prima che finisca la beta di Pokémon Sian Ok Intanto ho imparato anche Iron Tail Il buon Il buon Stegamp Bellissimo Comunque è bello Ma avete detto comunque che L'evoluzione è veramente molto molto bella Metal Claw Però comunque sia Alcune mosse di tipo terra E acciaio di questi Pokémon Come ragazzi Mi fanno abbastanza male purtroppo Ma comunque è abbastanza resistente In difesa fisica Stegamp È una difesa fisica Addirittura più alta Di quella di Dreadrock Quanti allenatori ci sono? Voglio vedere Tanto chi è il capopalestra Di questa palestra Che mi ricorda molto Quella di Giovanni Asmenaldopoli Anzi È praticamente uguale Eccolo qua Stegamp ragazzi Andiamo con Aquatail Vediamo un po' Tanto bellissima l'animazione di Aquatail Che l'hanno resa abbastanza bene Uuuuh Sembra tipo Vigore Che è rimasto tipo con un PS Ma non penso sia Vigore Forse non è Vigore Qua è più di Fanta Allenatori di Venturi Tutti questi allenatori Con Pokémon Veramente molto Forti Insomma Sì guardate che sono Abbastanza forti Questo lo shottiamo malissimo Graveler Ok ragazzi Mettiamo un po' Mettiamo anche Ravsky Però Adesso che ci penso Non ci avevo pensato Al buon Ravsky Mamma mia ragazzi Anche lui Molto molto potente Allora Visto che Io spero che non ci ha veleni Io spero veramente Che non ci ha veleni Questo Nidorino Non avvelenarmi Grazie Ragazzi Ogni volta che vedo Un Nidorino Un Seed Dalla scorsa parte Veramente mi vengono i brividi Veramente vorrei tipo Uscire dalla palestra D'istante Ok Questo qua è un veterano Con Piloswine Ok Piloswine potrebbe già essere Un più problematico Infatti Potrebbe provare Andare con Acquatail Però di sicuro Non ho one shot Oppure sì No Non ho one shot Ok Nebbia Certo No Però mi sommissa Ok Abbiamo attaccato Ragazzi Perché nebbia Diminuisce un po' La precisione In pratica Se non sbaglio Graveler Ok Contro Graveler Possiamo anche concederci Un co' d'acciaio Proprio Ah Bulldoze Che è battiterra Se non mi ricordo male Mi pare che sia la traduzione Sia battiterra In italiano Ma chi è? Se sta palestra C'abbiamo Brain From the Canto region Mamma mia Ok Ok Questo è un domatore Tamer Non mi ricordo Che si dice Se è tamer Vabbè Comunque Ragazzi Questo qua Veramente Picchia duro Questo qua Questo qua Non scherza Non è qua Non è qua A soffiare Nelle cannucce Insomma Quindi Allora Iron Tail Iron Tail Comunque È un po' Dessioso Come mostro L'ha imparata Oh golem Ma andiamo un po' Panica Ragazzi Con un bel surf Se lo beve Questo qua Se lo beve Proprio con un bel surf Lo fa affogare Con un surf Bel Ma è un po' Particolare Questo golem Ma l'ha un po' Modificato Mi pare Comunque Comunque Qua ci sarebbe Jab lane Volevo 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 saltarlo Questo Questo pazzo No Ebbè Mi sa che morirà Il bon Stagramp E mi sa di sì Mi sa di sì Ok ragazzi Mandiamo Mandiamo Il bon Panica Con Idropompa Il Moonset Di Panica È diventato Veramente Una potenza Nido Queen No grazie Non c'è storia Panica È Potent Volevo imparare Wood Hammer Che aspettate Oddio Non mi ricordo La traduzione italiana Mazzuolegno Allora Dovrebbe essere Mazzuolegno Forse Oppure Radicalbero Sapete che ragazzi C'ho un dubbio Esistenziale C'ho un dubbio Esistenziale Allora Ovviamente Al posto di Morso Volevo Ragazzi C'ho C'ho un dubbio Wood Non mi ricordo Dopo ragazzi Giuro che appena Fuito da parte Vado a controllare Su Pokémon Wiki Perché c'ho un dubbio Veramente Wood Hammer Forse Mazzuolegno Adesso dopo Proviamo a fare Questa mossa Magari Mi viene in mente L'introduzione italiana Questo qua l'ho affrontato Sì Ok Passiamo di qua Ma quanti allenatori Potenti c'erano in questa palestra Ok ragazzi Siamo qui davanti A capo palestra Oh no Sì Dante Sono Adam Capo palestra Di Siennatown I miei Insomma La mia specialità Sono i Pokémon Tipo Guarda i Pokémon Tipo Terra Nel Nel Cipelago Di Sveglia Vuoi Vuoi scoprirlo Certo che voglio scoprirlo Io ti voglio anche battere Vincere la medaglia E andare A svegliare La Regilock Nella Nella sua tomba Nidoking Nidoking 44 Ragazzi noi siamo Allenati Cioè siamo Allenati bene Questa volta Questa volta siamo Veramente messi bene Con i livelli Possiamo giocarcela Alla pari proprio Quindi Aquatail Che non attacca Per prima Perché ha fatto una mossa Che non ho visto Però comunque sia Mi sa che aveva Apriori la sua mossa Vediamo che mossa Fa colpo Ok Ok Aquatail Bye bye Molto bene Golem Golem Ma andiamo a Rusky Dai anche se potrebbe essere Rischioso contro Golem Ma io ragazzi Una bella Slavina Gliela faccio Bulldoze Ok Non dovrebbe shottarmi Anche se ha basse difese Cosa ci diminuisce la velocità Non importa Non importa Slavina Potenziata anche Dallo strumento E Con un attacco Eccellente Di Rusky Ragazzi Non lascia scampo A questo Golem Eccolo qua Stagramp Livello Penso sia lo subocam Più forte 46 Ok ragazzi Super efficace Per 4 Temo che ci shotti No Resiste Grandissimo Rusky Shottalo Per 4 Per 4 Buttalo giù Buttalo giù Yes ragazzi L'attacco fisico di Rusky È qualcosa di sensazionale Veramente ragazzi Troppo bello Troppo epico Soprattutto 46 Guardate 109 di attacco E la velocità Alle stelle Mamoswine Ragazzi Con Mamoswine Mettiamo dentro Il vecchio Il vecchio leader Di questa Del nostro team Infatti ragazzi Fino a poco tempo fa Era il Pokémon più forte Adesso magari ci sono Alti Pokémon più forti Ma ragazzi X-Splitle Ha imparato Lava Plume L'ha imparato fuori parte Mi pare E quindi ragazzi Collaudiamo questo Lava Plume Terremoto Aaaah Non mele Non pensavo Mi voce di terremoto Aia Ok metà vita Lava Plume Che sarebbe Lava Sbuffo Dovrebbe essere Lava Sbuffo Vediamo Un po' Super efficace Molto bene Vediamo Se lo shottiamo Non lo shottiamo Allora Dovrebbe ricaricarsi Quindi io vado Con lancia fiamme Che vediamo Se stoglie di più Magari lancia fiamme Ok Flamethrow Ah mamma mia Tutta la potenza In un unico lancia fiamme Che gli suggerà Questo Mamoswine In un colpo solo No No Fire Punch Ancora Adam Basta Ancora Niente Scottato Te lo metti Te lo metti Subito Te lo meritavi Già subito Una bella scottatura Abbiamo vinto Abbiamo vinto ragazzi Un capolavoro Di vittoria Una sorprendente Una sorprendente Sconfitta Insomma Ma devo Devo rispettare Le regole Insomma Quindi Eccola qua The Fissure badge Che non solo La Fissure cos'è La Non so come si traduce Fissure ragazzi In italiano Veramente Non lo so Ok I Pokémon 70 Si obbediranno E Riceviamo l'MT34 Che contiene Forse Bulldogs Vediamo un po' Vediamo un po' No Non me l'ha detto Perché Mamma mia Proprio di poche parole Tipo L'Adam Ok Bulldogs appunto Mi sembra Mi sembra abbastanza giusto Ragazzi Che era Bulldogs Ok Usciamo Vediamo un po' Se c'è qualcuno Che ci aspetta Qua fuori Sembra di no Ma adesso ragazzi Il momento Che aspettavamo Da due parti Sta finalmente Arrivando Infatti adesso ragazzi Andremo ad ovest Di Sienna Town Ma prima Voglio vedere Se c'ho dei repellenti Max Repel 4 Io sapete cosa faccio Per sicurezza Me ne compro altre Perché non vorrei poi Rimanere tipo Incastrato Tra migliaia di Pokémon Osservateci Che mi romperebbero Solo Mi romperebbero Solo La parte Quindi Forse è meglio Prendersi un po' Di Max Repel Che dite Ok Adesso ragazzi Andiamo ad ovest Di Sienna Vediamo un po' Sandstone Path E qua ragazzi Inizia Un percorso Ecco Wow Team Roachet A ore 12 Ok Allora Vediamo un po' Rock Slide Missa Iniziamo bene Stagram Tanto ragazzi La velocità La velocità E la potenza Soprattutto Allora Contro di lui Mandiamo Pineclad Perché voglio provare La mossa Che abbiamo imparato prima Vediamo un po' Ok È Mazzuolegno Dovebbe essere Mazzuolegno Questa qua ragazzi Vediamo un po' Sì è Mazzuolegno Perché Mazzuolegno C'ha anche il contracorpo Quindi è Mazzuolegno Al 120% Ok Vediamo qua Se si trova qualche Pokémon Nuovo Gravel Non è di sicuro nuovo Mi dicono No Mi sa ragazzi Che in questa In questa sabbia Qua si trova solamente Stagram Come Pokémon Come Fakemon Nuovo Eh sì Mi sa proprio di sì ragazzi Vabbè non importa dai Affrontiamo questo tipo qua E poi andiamo dritti dritti In caverna Border Allora qua Tail Non se ne parla più Ah Cavolo Mi sa che questo qua È un Pokémon da Vigore Mi sa che c'è un Pokémon Vigore Questo Pokémon sicuro Geodude Geodude Con Iron Tail Se ne va Uh Questo 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 è Vigore Questo è Vigore Ok Adesso Un attimo indietro Ragazzi perché Voglio essere Al 100% curato E potente Per la sfida Magari col Team Rocket Anche se siamo A questo momento Siamo alleati Col Team Rocket Ah Rocky Sei arrivato Eccellente Giovanni ci sta aspettando Ehm Ok Ehm Should be down Sì Sono al piano Praticamente al piano Di sotto di questa grotta Non faglio aspettare a lungo Quindi ragazzi Giovanni ci sta aspettando Sandstone K Dimmi che non ci vuole Flash Ok Adesso Magari prima vediamo Che Pokémon ci sono E sconfiggendo Anche Abbastanza in fretta Questi simpatici Allenatori Che veramente ragazzi Io non li voglio proprio vedere La difesa di Stagramp La difesa di Stagramp Ragazzi è qualcosa di Mamma mia Non ci buttiamo giù Manco con un carri armato Manco con un carri armato Ci buttano giù Ok Si evolve Non si evolve Stagramp Molto male Ok Vediamo un po' Se trova qualche Pokémon Non credo si trovano Pokémon nuovi ragazzi Questo qua è In piena crisi È in piena crisi Di mezza età Questo qua Passeranno su e giù Così a casissimo Vabbè Arcana in una grotta What the fuck Ma io ci vado di rock slide No Perché Perché mi devi Perché mi devi Dimezzare l'attacco Con la scottatura Ma se Adirittura switcha Addirittura switcha Eh Il simpatico ragazzo Allora facciamo così Ravski mi pare che abbia Aia Mi ha fatto un male cane Dai Ravski Bravo Buttalo giù La difesa è diminuita No 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 Ragazzi ci ha fatto veramente malissimo Questo slow blow Ma noi di più Ma noi di più Allora Adesso Adesso È un po' che non mandiamo Riving Mio Dio è di mandare il buon Pine Gravel Il nostro granchio Veramente di tipo Erba acqua Che è stupendo E dire poco E dire poco Sinceramente Dai che stupendo Adesso ragazzi Rosseglia Mi pare di aver visto Firepunch Ingrane Quindi radicamento In poche parole Ok Allora Abbiamo una culo totale Una Antiscottatura Full restore Abbiamo Molto bene Molto bene O una bella Iperpazione Pronta Pronta All'uso Per te E quindi Andiamo Ok ragazzi Non ci sono Pokémon nuovi In questa grotta Mi sa Quindi Dove sono i Max Repel E quelli qua Molto bene Andiamo ragazzi Cosa ci fa un Piliamosco Qua dentro Cioè Non ci sono le Vespiquin Ma ti distruisco Veramente con Per 4 Che mamma mia Mi chiede addirittura Pietà Anche Darkstox Stessa cosa Mamma mia ragazzi La potenza di questo Pokémon Ok Uno strumento Repellente Molto utile Molto utile Ok Molto bene Un altro Uh Questo caso Già parla di Regirock Quindi ragazzi Siamo veramente vicini Al buon Siamo vicini Alla tomba Ragazzi Dove giace Dove riposa in pace Il buon Regirock Boulder Il nostro Vecchio Pokémon Che poi si è evoluto In Dreadrock E si deve ancora evolvere In un Pokémon Di tipo Drago Mi avete detto Quindi aspettiamo Ansiosi La sua evoluzione Nella forma finale Di tipo Drago Nidoquinn Ok ragazzi Il momento anche C'era un po' Dato che non voglio usare Solamente Solamente Stagramp Idropompa E non se ne parla più Bye 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 Mamma mia Quanta set Pilecraft Sei veramente Un eroe Mamma mia Questo bug Mi piace Veramente la testa Che La testa che Proprio va Va via Così Sparisce la testa Ci sono i fantasmi Anche nella grotta E vabbè Vabbè ragazzi Questi bug Questi bug Questi bug Allora Flareon Flareon Vabbè Rockstar Fallisci Scary face E io godo E io godo Mamma mia Earthquake La madonna Ragazzi Earthquake Al posto di Byte Al posto di Byte Un bel terremoto Ragazzi Perché non si evolve Ragazzi Ragazzi Io sono qua Che sto veramente Aspettando Sulla sedia Veramente Sto aspettando La sua Evoluzione Come non mai Allora C'è Panca Che ha necessità Di una Potion Switchiamo un po' Mettiamo un po' Raschi Dai Dai Allora Tanto ragazzi Mi avete Sento Uh bellissimo Quello della quinta palestra Questa qua sono Sbagliato ragazzi Vi stavo dicendo Che siete veramente Entusiasti Di questa serie Io sono veramente Contento Anzi Alcuni di voi Mi avete pure Mi hanno pure chiesto Se potevo fare video Più lunghi E ragazzi Adesso vediamo un po' In base a quello Che c'è da fare Nell'episodio In base a quello Deciderò Comunque sia Adesso siamo Tipo a 15 minuti Quindi In base a quando Arriviamo Nella tomba di Regirock Decidiamo Quando insomma Far finire l'episodio Dai Allora Non è tanto efficace Perché mi pare Che anche di tipo Questo qua è di tipo Fuoco psico Se non sbaglio Quindi non è tanto efficace Tipo ghiaccio Molto bene Bye 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 zio E ma quante sale ci sono In questa grotta Io voglio Io voglio Trovare il mio Ogno socio Il mio socio In affari Giovanni Mamma mia Ragazzi Giovanni Veramente Tanta roba Tanta roba Come capo criminale Mamma mia Metang Metang con un bel crunch Con un bel sgranocchio Metallico Se ne va veramente Veramente Alla discarica Dei metalli Veramente Ciao Uh Questa scala Mi sta tanto di Mi sta tanto di fregatura Ecco di cosa mi sa Ma io non sono già passato Da questa parte Ragazzi Sto facendo il giro intorno O sbaglio Mi sa che avevo fatto il giro intorno Non me ne sono manco accorto Complimenti Roshet Per la Veramente per l'intelligenza Suprema Sublime Skull Bash What the 130 Ragazzi Cavolo Che mossa Dei user Nel first turn E attacca il secondo turno Che mossa è Scusate La voglio mettere Al posto di Di resistenza Perché Non so che Veramente ragazzi Che mossa è Skull Bash Skull Cos'è Tipo Teschio E Aspettate Non mi viene in mente Nessuna mossa Che sia Che abbia questo nome In italiano Sinceramente Ok Tanto ragazzi Facciamo veramente Piazza pulita Di questi Pokémon Tipo roccia Mamma mia A casa Allora Dai ragazzi Voglio Giovanni Dov'è Giovanni Levati Levati Con questo Con questo Coso Con sto Fucker punch Che ti sa Queer punch Mamma mia I jeans corti Mamma mia Sto bulletto Del cavolo Ok Allora Nelson Nel son bulletto Allora No basta Per l'allenatore Dov'è Giovanni Dov'è che devo Devo parlare di affari Cavolo Ok Allora Bold Ancora lui Ragazzi Cercherò di accelerare Un po' Perché dobbiamo andare Un po' spediti E se no qua Non ci arriviamo più La Giovanni E che cavolo Carbink Carbink Così a caso Spunta fuori un Pokémon Di sesta generazione Così A casissimo Basta fare protezione Veramente Basta fare protezione Sennò veramente Ti distruggo Ti distruggo Veramente la stir Quindi basta Ok Eccoli qua State indietro All'Akbar Ancora un Un pezzo di dinamite Dovebbe andare Ok Sembra che stia per Crollare il muro Ok Boom Kabum Cos'è Fuochi d'artificio Confirmed proprio Ah ma Giovanni Rocky Sei arrivato Secondo me Se i miei calcoli Sono corretti Dietro quella Dietro quella poeta Ci dovrebbe essere Regirock Seguimi Se Insomma Seguimi Se necessario Ok Ma io ti seguo Questi qua cosa fanno Si Ti seguo Ti seguo Satranchi Giovanni Eccolo qua È lui Proprio come avevo previsto Beh ragazzi Giovanni Non sbaglia veramente mai E questo sarà nostro No creepy Cosa fai No aspetta Non è creepy questo Non è creepy C'è capelli più potenti Siamo super Saiyan Questo qua Fermi tutti Sono qua per fermare Voi criminali Ok Look like Ah Sembra che abbiamo visite Rocky Ah no Keep Sì Di Silo Mentre Mentre ci chiamo Di cattuare Regirock Ok Praticamente questo qua Ragazzi ci affronta Ma questo qua Chi cavolo è Ma non è creepy Questo qua Ma chi cavolo è Ok No Ma questo chi diavolo è Aaron No ragazzi Questo Questo è da dove spunta Questo è da dove L'hanno pescato Vediamo Sculbush Allora Mi ricorda qualcosa Questa animazione Ma non è capocciata Perché capocciata Non è sculbush Oppure è capocciata Veramente Vediamo un po' Eh mi sta che capocciata Invece No Ma che potenza Che potenza Mamma mia Swellow È più veloce Swellow Sempre più veloce Lo shottiamo Veramente malissimo Ok Ribyvine Questo Questo è nuovo Quindi Per un pokemon nuovo Mandiamo il vecchio Il vecchio leader Del team Expletor Vediamo un po' Ah È una rana Ok Non so di che tipo sia Vediamo con XC Crescita Tipo erba L'ho azzeccato Dimmi che l'ho azzeccato Dimmelo Attenzione Yes ragazzi Tipo erba Azzeccata Mossa azzeccata Il pokemon Azzeccatissimo Veramente Ragazzi ho avuto un culo Assurdo Ok Electivire Ragazzi Stagram Confirmed Terremoto Confirmed A che livello C'era 48 46 Ragazzi Terremoto No Schermo luce Vabbè Tanto comunque Aumenta la riflessione speciale E terremoto E fisico Quindi terremoto E Lo shotteremo Secondo me lo shottiamo malissimo Ok Zitto adesso Muto che Giovanni deve catturare Regirock Quindi Aaron No Come è potuto succedere Insomma Come può essere Allora Vediamo un po' L'ha catturato Mamma mia ragazzi Giovanni cattura tutto con le pocaval Guarda che roba Sono dispiaciuto ma Hai fallito E ora E ora Battere insomma Pensi che You can get Pensi che Sia tutto così facile Ma non lo sarà Ben fatto Rocky Sì Sottotitamente Siamo stati interrotti Ma tu comunque Hai Hai messo tutto a posto Praticamente Regirock adesso è nostro Torniamo Torniamo alla base Ok Abbiamo ancora Abbiamo Cioè Abbiamo delle cose da preparare Ma una volta che We're ready Sì ti chiameremo Una volta che sono pronti ti chiameremo Ok Ah ci dà il numero Abbiamo il numero di Giovanni Ragazzi Questo qua è un privilegio Altro che Gennaro Bullo Ok muoviamoci Sono sicuro che la polizia arriverà breve Molto bene ragazzi Quindi niente È finita così Sembra finita così la storia La faccenda qua Ok Molto bene Questo qua Non ci dico assolutamente nulla Sembra di no ragazzi Quindi Mi sa che Dobbiamo solamente più uscire Ma mi sembra Allora Si esce da qui Si esce di qui Ok Quindi ci metteremo un attimo Uscire ragazzi Quindi poi Usciamo un attimo fuori Vediamo se c'è magari qualcosa Da fare E poi possiamo anche volentieri Stoppare la parte Tanto per oggi abbiamo fatto Direi abbastanza Tanto siamo già fuori Quindi onestissimo Ok Vediamo un po' Siamo fuori Non c'è nessun altro qua Ma adesso dove dobbiamo andare Però ragazzi Io ho dubbio Dove dobbiamo andare poi adesso Boh ragazzi Lo scopriamo nella prossima parte Adesso ci curiamo la squadra ragazzi E nella prossima parte Scopriremo cosa ci aspetta Nell'ultimo spezzone Di questa beta Di Pokémon Sian Quindi ragazzi Spero che questa parte Vi sia piaciuta Quindi vi lascio un bel mi piace Un'iscrizione Rispondendo alle domande Di Rocket No ragazzi Ci vediamo domani Con un prossimo video Un saluto a Rocket E ovviamente ragazzi Bye bye